Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è Alessandro Mahmood, in arte Mahmood, un gioco di parole tra il suo cognome e Mahmood, compie 30 anni. Il cantante nato il 12 settembre 1992 a Milano ha mischiato nella sua musica diverse influenze e suggestioni, riuscendo a diventare un nome di riferimento per la generazione Z senza perdere al contempo l'occasione di raccontare sempre un po' di se stesso. Vi parliamo di lui attraverso alcuni dei suoi pezzi più famosi. Così potrete creare anche voi la playlist perfetta di Mahmood. Soldi.c' è sempre nella carriera di un cantante di successo quella canzone, in grado di riassumere ciò che rappresenta come artista e cosa potrà diventare. Soldi più che per la vittoria a Sanremo che l'ho rivelato a un pubblico trasversale, è importante in quanto rappresenta il perfetto punto di partenza per iniziare ad ascoltare Mahmood. In questa hit troviamo elementi che torneranno poi in tutta la discografia del cantante sardo, milanese virgola barra egiziano. Soldi ha alla base uno spunto autobiografico che però finisce per diventare in qualche modo racconto collettivo, presentando un mondo in cui il denaro è un riverbero forse inedito nello sviluppo dei rapporti interpersonali. Un mondo in cui è facile sentirsi accantonati dopo l'ennesimo discorso che si risolve in un superficiale come va come va come va. Rubini.come vedremo anche più avanti in questa classifica, Mahmood è in grado di esaltarsi al fianco di un altro artista. Rubini è un brano dall'arrangiamento quasi minimale, che serve più che altro da base all'incrociarsi di due voci complementari come quella di Elisa e Alessandro. La cantante triestina, che da sempre ha cercato un suono pop moderno e in grado di uscire dai confini italiani, si trova perfettamente a suo agio con un collega che ne imita quasi naturalmente il percorso. Mahmood è infatti figlio di una generazione abituata più delle precedenti a mischiare i riferimenti nostrani con tutto ciò che propone il mondo globalizzato, fino a creare uno strano ibrido che suona italiano ma anche proponibile all'estero senza apparire kitsch o forzato. In Yash appunto il titolo di questa hit non dirà molto a chi è nato prima degli anni 90 ma contiene una metafora abbastanza esplicativa per chi conosce il personaggio del manga omonimo. Come il personaggio del mezzo demone in Yash anche Mahmood in questo pezzo racconta il suo sentirsi scisso tra diversi se, forse a causa di medesime cicatrici che ne hanno segnato il percorso e che ne impediscono ancora un rapporto completo. L'omaggio a questo fumetto giapponese poi diventato anime non deve sorprendere vista la passione per la cultura asiatica più volte esternata da Mahmood, basti pensare a un altro suo brano come Aura Maki. Barrio.un altro brano in cui Mahmood ribalta gli stereotipi. Qui parla del quartiere, del barrio, ma senza farlo diventare come da cliché hip hop il teatro di spaccone rie da gangster. La periferia di Mahmood diventa in questa canzone lo scenario perfetto di una complicata storia d'amore e incomunicabilità, in un luogo senza identità dove si è tutti e nessuno allo stesso tempo. Dopo il successo di soldi anche in Spagna Mahmood strizza di nuovo l'occhio a quel mercato, senza al contempo rinunciare a certe suggestioni arabe e nord-africane che fanno ormai parte della sua identità musicale. Dorado.Nel 2020, l'anno dopo Barrio, arriva Dorado che in qualche modo è un altro passo nella stessa direzione. Stavolta Mahmood si fa affiancare dal più internazionale dei nostri trapper, Sfera e Basta, e dal cantante colombiano Faye, famoso per la sua musica a metà strada tra il reggaeton, l'hip hop e l'arenby. Ne viene fuori un mix inedito, in cui viene evocata persino l'ana del rei, ritratta in un poster nel videoclip. Un viaggio onirico, per utilizzare le parole dello stesso cantante, che al Corriere della Sera raccontava il pezzo così al momento dell'uscita, Dorado è un racconto che parte dall'ultimo anno che ho vissuto, un anno patinato completamente diverso da tutto quello che è stata la mia vita precedente. Gli artisti più grandi hanno in comune una cosa, sono quelli più semplici, ti trattano come se fossi loro amico da una vita. E questo mi ha fatto riflettere. È sempre importante ricordarsi le proprie origini, le proprie radici, come canto in dorado, nelle tasche avevo nada, ero cool non ero prada. Brividi. La canzone vincitrice dell'ultimo Sanremo è forse l'esempio più eclatante di quanto Mahmood sia in grado ormai di poter ricoprire il ruolo di mentore per un artista più giovane. Alessandro, che già aveva dimostrato la sua capacità di mettersi nei panni altrui in veste di autore, qui affianca un blanco mai così intenso. Una canzone che è accolpito anche grazie ai suoi diversi piani di lettura, una canzone d'amore che non è solo una canzone d'amore o almeno non nel senso classico del termine. Clan. Trovare qualcun altro per ritrovare se stessi. Dopo la sbornia del successo di soldi è capitato qualcosa di simile anche a Mahmood. In clan il cantante racconta il bisogno di ricostruire una base di rapporti forti, simile a quella che gli ha permesso di sopravvivere negli anni in periferia. Un concetto, quello della ricerca di una più stretta prossimità, ancora più esaltato dal videoclip, in cui si richiamano quasi certe opere di Vanessa Bicroft. Milano Good Vibes. Il contraltare perfetto di clan è questo brano di qualche anno prima. Qui la metropoli svuotata dall'esodo agostano diventa l'emblema di una solitudine con cui si è arrivati a convivere, fino quasi ad apprezzarla o a ironizzarci sopra. Mahmood vaga in una Milano che è un bellissimo deserto alla ricerca di Good Vibes ben conscio che sentirsi uno schifo non ha senso se a pagare sono sempre i tuoi. Quei tuoi che comunque restano sempre, quantomeno nei pensieri, il clan non lo scioglie né la distanza né la calura estiva. Calypso. Mahmood torna a collaborare con due pesi massimi della scena rap come Sfera e Basta e Fabri Fibra. Ne viene fuori questo tormentone che racconta una fuga dai vicoli e da quella mediocrità di periferia che non è poi troppo diversa dal tentativo di Ulisse di scappare dalla Ninfa Calypso. D'altronde bisogna muoversi per poter uscire da una stasi che sembra perenne, altrimenti si finisce come la gente che aspetta miracoli evocata nel pezzo. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione.